Buongiorno, prima di tutto vorrei introdurmi, sono Vescovo Paul Ayer Park della Biocesi della Missione in India. Sono molto grato a voi tutti i benefattori per l'aiuto economico che ci ha dato già sotto l'auspicio o l'iniciativo del Coramico nel Brescia. Anche nel periodo di Covid, che è un periodo molto difficile dal punto di vista di tutti, sono grato per tutti voi e per la sua buona volontà per aiutare le persone che sono in bisogno, in bisogno vari per tutto il mondo. Suoi auguri, tanti auguri per l'aiuto amico, per l'iniciativo, anche per tutte le cose che loro sono state facendo in questo periodo. Anche tutti voi buon saluto, anche grazie del Signore attraverso l'indirtezione celeste della nostra Madre, Beata Maria. Sono tanti auguri a voi tutti. Ciao Siete.